Dopo tre mesi di indagini, gli agenti delle squadre mobili di Cremona e di Crema hanno dato un volto ed un nome ai presunti aggressori di un indiano di 30 anni. Si tratta di sette connazionali di età compresa tra i 25 e i 40 anni che a fine gennaio avrebbero sequestrato e malmenato a Bottaiano il giovane indiano lasciandolo poi esanime all'ospedale di Crema. Nella notte cinque dei sette indiani ritenuti responsabili dell'aggressione sono stati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona grazie anche alla collaborazione degli agenti della Polizia di Stato di Lodi, Bergamo e Brescia. I cinque sono ora in carcere a Cremona a disposizione dei magistrati mentre proseguono le indagini per rintracciare gli altri due presunti colpevoli. di Cremona grazie a tutti.